Dragon Fleece con José Padilla e Kirsti dal nostro archivio della musica di Border Knights esattamente dalla stagione 2014-2015 e ci piace andare avanti e indietro nel tempo con le nostre selezioni musicali dopo aver ascoltato anche il maestro di etnologia che si è concentrato su Greta adesso noi ci concentriamo invece con gli autori dell'edizione Il Punto d'Incontro questa sera in particolare parliamo di bicicletta sì, in che senso? No, della bicicletta come fonte di felicità il libro si chiama La Felicità in Bicicletta e sono con noi Walter Ballarini e Daniela Angelozzi La Felicità in Bicicletta propone una tecnica un binomio vincente per pedalare con il corpo e rallentare con la mente per ritrovare l'armonia, migliorare la salute psicofisica insomma andare in bicicletta è sicuramente divertente, fa anche bene e qui scopriremo come coniugare anche la dimensione meditativa un po' spirituale con il pedalare, con l'andare in bicicletta e allora diamo spazio adesso dunque agli autori Walter Ballarini, Daniela Angelozzi sono Walter Ballarini io sono Daniela Angelozzi e siamo gli autori della Felicità in Bicicletta Mindfulness dinamica per ciclisti consapevoli edito da Edizioni Il Punto d'Incontro allora questo libro appunto La Felicità in Bicicletta è un libro che nasce per caso ma non a caso perché io e Daniela un po' di tempo fa abbiamo dato vita a un blog che si chiama My Bike Way e questo significa che vogliamo raccontare la nostra esperienza del ciclismo che non è esattamente l'esperienza che tutti vivono allo stesso modo il nostro punto di vista è un punto di vista leggermente laterale perché ci occupiamo non solamente di ciclismo ma ci occupiamo anche di salute, di benessere e anche di felicità sì, infatti io mi occupo di salute ormai da tanti anni l'incontro con Walter e quindi praticamente con la bicicletta mi ha fatto invece riscoprire attraverso questa intuizione diciamo di pedalare in un modo meditativo questo è successo così una delle prime volte che uscivamo in bici anzi la prima volta quando Walter appunto dovendo affrontare la prima salita impegnativa mi fece concentrare sul ritmo respiratorio e quindi sul ritmo anche del pedalare quindi rallentando cercando di mantenere semplicemente l'equilibrio e io quella volta riuscì a fare questa salita piuttosto impegnativa quasi senza rendermene conto che avevo fatto? avevo scoperto così questo nuovo modo di pedalare questo nuovo modo di meditare per quello che uscì fuori questa definizione mindfulness dinamica cioè meditazione dinamica in bicicletta io chiaramente l'attenzione ce l'avevo spostata per quanto riguardava la salute e quindi con questa mente ormai liberata diciamo quindi dai pensieri perché appunto concentrata sulla respirazione e con il movimento del corpo e quindi con il benessere fisiologico che ne scaturisce perché ovviamente c'è tutto l'effetto biochimico della produzione di endorfine quindi dico ma allora è fantastico perché riesco a muovere il corpo fare meditazione immersa in un contesto perché noi scegliamo sempre percorsi ovviamente dove è molto potente la presenza della natura perché anche quella è un acceleratore dei processi di autocuarigione quindi niente è uscito fuori questo binomio fantastico che ovviamente diciamo anch'io ho interpretato perché è stato un insegnamento che Daniela mi ha regalato perché io questa cosa qui la facevo e la facevo inconsapevolmente perché affrontando anche delle sfide estreme come Randonet dei 1500 chilometri o comunque sia diciamo con un impegno fisico e psichico elevato io quasi naturalmente mettevo in pratica una forma di meditazione che mi aiutava a superare tutti i momenti di crisi che inevitabilmente puoi attraversare quando fai un viaggio lunghissimo quando devi affrontare anche salite impegnative quando devi confrontarti con i limiti del tuo fisico quindi con la stanchezza con lo stress quindi quando Daniela è riuscita attraverso la sua formazione più scientifica più a diciamo interpretare questa esperienza sia sua personale che a darmi delle indicazioni su come invece migliorare anche queste mie intuizioni e renderle una pratica anche trasferibile ad altre persone abbiamo avuto l'idea di appunto scrivere un libro che potesse in qualche modo sintetizzare queste e anche trasferire trasmettere questa nostra esperienza e anche a contribuire no un po' così a rendere le persone più consapevoli perché alla fine si tratta sempre di consapevolezza se noi fossimo più attenti a quello che facciamo a quello che pensiamo e quindi anche quando pedaliamo se fossimo più concentrati proprio sull'atto del pedalare a quel punto vedremmo la nostra mente piano piano svuotarsi e quindi rallentare e quindi la possibilità di ricreare quel collegamento con la nostra anima collegamento ormai perso perché subiamo i ritmi frenetici della vita e io vedo nella mia esperienza che molto spesso la malattia nasce proprio su questo substrato cioè perché manca totalmente il dialogo proprio il dialogo con la parte la nostra parte più autentica quello è un momento quella della meditazione in generale ma appunto la meditazione dinamica in bici immersi in mezzo alla natura è un momento in cui invece possiamo ritrovare noi stessi possiamo riscoprire e anche scoprire una modalità diversa di affrontare la vita quindi non solamente andando in bicicletta ma poi cambia anche il nostro modo di mangiare di vivere di relazionarci agli altri ecco in questo libro noi tutte queste cose qui che a livello teorico possono sembrare anche abbastanza impegnative noi abbiamo cercato di renderle più possibile leggere cioè quindi comprensibili e anche in una forma facilmente leggibile noi pensiamo che ovviamente per essere felici la prima cosa è che bisogna essere liberi e quindi abbiamo diviso il libro in vari capitoli che affrontano vari argomenti e il libro può essere letto non in modo anche diciamo sequenziale ma si può saltare da un capitolo all'altro in basso all'interesse che magari il titolo può suscitare quindi non so possiamo partire dall'arte di essere in bicicletta cioè quindi che è un modo di sentirsi e quindi di di far meditazione quello di cui abbiamo parlato finora ha anche invece un'esperienza un pochino più pratica cioè quindi come metterci la testa ma anche metterci le mani nella bicicletta e quindi come capire che con questo questo mezzo che a noi ovviamente è una sorta di protesi che ci consente di vivere questa esperienza molto bella e ricca del ciclismo è come noi in realtà dobbiamo prenderci cura della nostra bici perché anche il far la manutenzione ordinaria della bicicletta ci dà la possibilità di di conoscerla meglio e anche di poter affrontare il viaggio con la consapevolezza di poter intervenire in qualsiasi momento risolvendo problemi anche tecnici meccanici che possono che possono esistere insomma quindi quindi la mindfulness dinamica in bici per ricreare il collegamento con la nostra anima ma per ricreare quell'allineamento mente quindi corpo mente spirito per spirito io intendo la componente energetica di cui siamo portatori spesso inconsapevoli e un'altra cosa che voglio sottolineare l'importanza anche di considerare di essere consapevoli della presenza nella nostra pancia di quel chilo e mezzo quasi due di microbi che sono che ci condizionano che determinano la nostra salute fisica e mentale e che anche il movimento quindi il pedalare in questo caso meditando può modificare e non dico altro perché c'è proprio un intero capitolo che parla di questo come altri capitoli riguardano dei consigli su come affrontare il viaggio quindi anche tutti i temi legati a come organizzare il bagaglio e l'arte di alleggerire cioè quindi un modo diverso di affrontare diciamo questa esperienza riuscendo anche a capire quali sono le cose di cui abbiamo effettivamente bisogno liberandoci di tutto quello che è superfluo e appunto l'esperienza del ciclismo e del cicloturismo ci insegna molte cose da questo punto di vista quindi altri capitoli riguardano il viaggiare di notte che è un'altra esperienza di quelle bellissime perché ti mette in relazione diretta con le tue sensazioni con il tuo corpo ti fa scoprire una dimensione anche sensoriale diversa perché utilizzi tutti quanti i sensi che normalmente di giorno diciamo lasci in sottofondo così come affrontiamo altre problematiche che sono legate al diciamo a un ciclismo che molto spesso viene vissuto dal punto di vista del 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 maschio e non come un ciclismo al femminile che invece secondo noi è diciamo la rivoluzione vera che sta avvenendo in questo settore con una presenza che sta rivoluzionando il modo di interpretare sia l'esperienza stessa del ciclismo che l'approccio alla salute e all'approccio mentale che il ciclismo genere quindi niente vi invitiamo a leggere con leggerezza ma anche con presenza con presenza e con consapevolezza questo questo nostro libro sperando che vi piaccia e che inneschi quel cambiamento che poi giorno dopo giorno vi porti proprio vi porti alla felicità di vita piena di felicità perché è per quello che stiamo facendo questa esperienza terrena quindi per essere felici in salute e felici a Grazie a tutti.